Per sfatare il grande tabù bianco-verde che lo scorso anno inchiodò l'Alma Juventus Fano al secondo posto. L'Alma Juventus Fano è di scena al Galileo Mancini di Casterfilardo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Sergio Catalani che vi parla dal stadio della cittadina fidardense. Bartolini mette nel mezzo, non aggancia a Gucci, c'è Marconi, ancora Marconi. Lì vediamo, mischia furibonda, la palla resta lì e poi c'è il gol, il gol! Ancora Fano con Modaldini verso Sivilla, vediamo Sivilla, 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 Gucci e il Fano che spreca. Sivilla intanto capisce tutto, vediamo Andrea, Sivilla, 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 Sivilla! Andrea! Sivilla! Andando addirittura al 2-0, intanto il corner, attenzione, c'è l'occasione! Situazione, l'Unerdini anticipato da Pigini che vince un rimpallo, attenzione, c'è Nodari, attenzione Ginestra, salva il risultato. Balloni su di lui c'è salvato che lo intercetta e lascia. Vediamo Balloni, espulso Balloni. C'è il rosso per Capparuccia, il solito rosso per Capparuccia. Dall'arriva mette in mezzo, c'è Trillini, attenzione a Trillini che fa tutto da solo, Ginestra. Lì, sbarra la strada. Sassaroli intanto non lo tiene, c'è il traversone, attenzione, con Ginestra che non trattiene ma poi salva. Attenzione perché il Castello ha l'occasione con Minella, il tiro ancora Ginestra. Intanto fischia alla fine le direttori di gara, l'alma vince, un'alma bella per oltre un'ora, poi concreta.